Una bella notizia per il Parco Nazionale della Maiella, questo riconoscimento davvero di altro profilo. È un riconoscimento molto importante che ci mette in una vetrina internazionale, molto di più di quanto già lo fossimo, e che soprattutto rappresenta il riconoscimento di una buona gestione del territorio insieme con una natura che è assolutamente unica ed irripetibile in tutto il Mediterraneo, oltre che negli Appennini. Il Parco della Maiella cambia soprattutto in termini di domanda di visita. Questa è la cosa che dobbiamo tenere in conto perché è noto che tutte le dichiarazioni UNESCO, accendendo questo faro a livello internazionale, accentuano molto l'interesse che viene da fuori. Quindi questo tipo di domanda di accesso andrà sicuramente ad unirsi con quella che già viene dalla popolazione locale e noi siamo preparati per gestirla. Noi già l'anno scorso abbiamo visto quanto desiderio ci fosse nella popolazione di accedere nelle aree di parco e quest'anno non vedremo una minore tendenza. A questa cosa si associerà una richiesta di visita che sarà un po' più qualificata e che probabilmente userà anche di più il nostro sistema ricettivo.